Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario è dedicata alla nuova frontiera dell'industria d'avanguardia a Gela che punta su progetti sostenibili a basso impatto ambientale, si tratta della produzione del guaiul dalla quale si ottiene gomma naturale il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta ha fatto il punto della situazione, vediamo Potrebbero arrivare anche a Gela nei terreni incolti le nuove frontiere dell'industria d'avanguardia che punta su progetti sostenibili a basso impatto ambientale La nuova e innovativa sfida si chiama guaiul dalla quale si ottiene gomma naturale Il guaiul è una pianta coltivabile in paesi dal clima temperato e la sua produzione potrebbe avere molteplici ricadute positive per il territorio di Gela Lo ha annunciato ieri il presidente Crocetta nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Gela in occasione della quale il governatore ha fatto il punto della situazione generale della riconversione industriale non soltanto locale e scandagliato i vari investimenti e progetti che dovrebbero partire nell'immediato puntualizzando che non possono esistere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B e che per la prima volta in un protocollo è stata inserita il punto relativo alla garanzia e mantenimento del lavoro del diretto e dell'indotto Parliamo presidente dei 50 milioni di euro destinati al porto ci sono numerose associazioni ma anche aziende in sofferenza che addirittura pensano di chiudere e andare via che risposte diamo? Il porto sarà... noi abbiamo tutte le carte regola perché i 50 milioni della regione li ha messi abbiamo il progetto esecutivo, ci sono stati alcuni problemi legati alla soprintendenza che li ha posti quest'estate li abbiamo già risolti e adesso contiamo col Ministero dell'Ambiente di avere il nuovo decreto sull'autorizzazione ambientale e partire con la gara questo è chiaro che sarà una bella economia perché i 50 milioni di euro di lavori che partono immediatamente danno il respiro alle aziende, creano un po' di occupazione ma anche daranno uno sbocco futuro di sviluppo notevole a Gela la coltivazione del guaiune verrà fatta... noi non vogliamo sottrarre terreno all'agricoltura per l'industria per essere chiaro, quindi verrà fatta su terreni che sono aridi, inutilizzabili e quindi non vogliamo assolutamente compromettere lo sviluppo agricolo del territorio di Gela che è una delle asse dell'economia dentro questo mese convocheremo proprio le organizzazioni sindacali a Palermo per discutere anche degli ammortizzatori sociali e vedere di fare fronte comune voglio essere chiaro, la regione fa fronte comune col territorio di Gela per le vertenze che la riguardano sia nei confronti dell'Eni che nel governo nazionale per difendere il territorio di Gela perché per me Gela e Termini Merese sono persino luoghi simpolici di un processo di industrializzazione che non si può chiudere, che deve ripartire Non è mancato un riferimento ai furti preoccupanti avvenuti in questi giorni alle aziende locali e il presidente Crocetta considera il fenomeno un'allarme sociale legato allo spettro del racket delle estorsioni che tornerebbe ad aleggiare in una città in cui negli anni è stato fatto tantissimo contro questa piaga ma il presidente ammonisce, si tenga alta la guardia Attivare ogni azione sinergica per migliorare la sicurezza e i servizi è il punto all'ordine del giorno dell'incontro che si terrà sabato 10 ottobre prossimo alle 10 nella sala convegni del centro direzione IRSAP con tutte le aziende insediate nell'agglomerato industriale di Gela a seguito della escalation di furti che si è verificata nelle ultime settimane L'IRSAP intanto nonostante l'attuale ITER di riforma ha già redatto i progetti e avviato i relativi affidamenti delle manutenzioni stradali della segnaletica, della pubblica illuminazione e delle verde nella zona ed è in attesa dei finanziamenti di altri progetti inseriti nei bandi POR, FERS per un importo di circa 6,5 milioni di euro che riguardano interventi sulla videosorveglianza, sui rustici e sulla pubblica illuminazione Un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti negli ultimi nove mesi e un giro di vita ai controlli della Movida Nissena questi gli argomenti di una conferenza stampa convocata dal questore Bruno Megale per fare il punto sull'attività della polizia di Stato da gennaio ad oggi Numeri, dati, cifre che delineano il lavoro delle forze dell'ordine nel territorio cittadino e in tutta la provincia Villa Cordova, ruogo da risanale vogliamo che la villa diventi luogo di passeggio per mamma e bambini queste sono state le parole del questore anche se oltre a episodi di piccolo spaccio 5 kg di sostanze stupefacenti i dati dei sequestri non è successo nulla di particolarmente grave aggressioni o fatti che hanno nuociuto ai singoli cittadini le pattuglie impegnate nei controlli anche quelli della Movida sono state 389 pattuglie di tutte le forze dell'ordine e 2932 delle persone controllate dagli uomini della sezione volanti 53 gli esercizi commerciali controllati in tutta la provincia un dato chiaro che ha voluto sottolineare Megale la presenza degli stanieri non ha un ciso nell'aumento della criminalità in generale per ciò che riguarda anche i gestori dei locali ha sottolineato la collaborazione e il concreto impegno nel migliorare la sicurezza dei locali notturni e comunque ha ribadito è necessario rispettare le regole si è parlato durante la conferenza stampa della provvidenza un quartiere da ristrutturare è una sorta di chiaramata alle armi anche da parte per le amministrazioni locali di dare una mano perché non ci può soltanto fare qualcosa la polizia in sede di comitato per l'ordine della sicurezza pubblica con il prefetto il presiduto del prefetto presente il sindaco e tutti gli altri attori istituzionali si è deciso di fare un intervento migliorativo della sicurezza sotto tanti aspetti chiaramente come forza dell'ordine noi ci occupiamo degli aspetti più legati alla sicurezza e alla micro criminalità gli altri attori istituzionali tra cui l'amministrazione comunale hanno anche il dovere di migliorare quelli che sono degli aspetti di degrado perché spesso il degrado è anche un indicatore della presenza di fenomeni micro criminali secondo lei a Caltanissetta com'è la sicurezza percepita? secondo me c'è un buon livello di sicurezza a Caltanissetta è chiaro che magari la percezione della sicurezza la sicurezza è un po' dell'insicurezza in questo caso varia per questo aumento incidenza di extracomunitari c'è la presenza del CARA, del CIE ha portato negli ultimi anni soprattutto del CARA a vedere in centro un fenomeno che negli anni precedenti non c'era mai stato c'è una maggiore presenza di extracomunitari quindi che può magari andare a incidere sulla percezione di insicurezza però vi assicuro che non c'è nessun nesso tra i fenomeni criminali e la presenza di questi extracomunitari richiedenti esilio anzi l'incidenza criminale connessa alla presenza di richiedenti esilio è veramente minima Cantare la fede la musica sacra al servizio della carità è il titolo dell'evento che si svolgerà a Gela e a Piazza Armerina e che avrà come protagonista il coro Perfetta Letizia e l'orchestra sinfonica della Camerata Polifonica Siciliana a dirigere sarà Monsignor Marco Frisina fondatore e direttore del coro della Diocesi di Roma che ha trascorso buona parte della sua vita al fianco di San Giovanni Paolo II Monsignor Frisina il presidente della Commissione Diocesana per l'arte sacra e i beni culturali consultore del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere docente presso la Pontificio Università Lateranense e presso la Pontificio Università della Santa Croce si tratta di un concerto a sostegno delle opere di carità della Picco la Casa della Misericordia di Gela che si terrà nella Chiesa Regina Pacis sabato alle 20 domenica 11 ottobre prevista la Santa Messa in Chiesa Madre a Gela alle 11 con l'animazione liturgica cura dei cori riuniti coro perfetta Letizia coro piccola Miriam e coro totus tus si terrà il prossimo 24 ottobre nella sala riunioni del Museo Diocesano di Piazza Armerina di fronte alla Cattedrale l'annuale conferenza diocesana del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa l'incontro sarà presieduto dal Vescovo Monsignor Rosario Gisana sarà l'occasione per comunicare i risultati ottenuti l'anno scorso e dibattere delle azioni da concordare e intraprendere nell'immediato Cambiamo argomento è Salvatore Terlati il nuovo presidente del comitato di quartiere di Settefarine lo hanno deciso i nove eletti domenica al voto si sono presentati in 200 sentiamo Nuovo presidente del comitato di quartiere di Settefarine è Salvatore Terlati che ha già ricoperto questo incarico le chiedo subito sono state però delle elezioni turbolente Beh sì sono stato molto turbolente devo dire però ringrazio la fiducia che ci ha dato l'intero quartiere perché tante famiglie sono venute a votare e ci hanno dato la loro fiducia fiducia che noi vogliamo ricambiare infatti ci siamo messi subito all'opera anzi ne approfitto per ringraziare Nuccio Vacca della Ghevas perché si è dimostrato subito disponibile ha fatto pulire subito le palme perché recavano un gravissimo danno era un pericolo per incidenti sul Cavalcavia questa sera incontreremo l'amministrazione ci siamo già messi in moto perché vogliamo lavorare per questo quartiere perché sono quasi sei anni che nulla è stato fatto a Settefarini dalla vecchia amministrazione ci auguriamo che questa amministrazione voglia lasciare una serie in bronda per i quartieri periferici che non prosegue sulla scia della passata Ecco ma cosa ha realmente bisogno il quartiere di Settefarine quali interventi? Ma gli interventi di urbanizzazione innanzitutto perché manca di tutto la vivibilità del quartiere è il degrado assoluto in questo momento adesso l'amministrazione si prepara a portare avanti quel vecchio progetto che c'era dell'amministrazione passata dei marciapiedi ma sarebbe incerto che vigileremo sui lavori che andranno fatti perché non si può lavorare creando più danni perché i marciapiedi vanno fatti ma vanno fatti con le gadatoie delle acque piovane ha fatto un lavoro fatto certosino è bene non come la via Settefarini che non si può manco camminare perché è stata stretta vigileremo non faremo fare lavori scritteriati a nessuno e voi avrete incontri continui con l'amministrazione comunale per ovviare tutti i problemi che lei ha appena elencato ma sicuramente perché saranno tanti gli incontri che faremo con i vari assessorati dell'amministrazione ma saranno più quelli che faremo con il quartiere perché a noi le indicazioni ce le dovrà per il quartiere non siamo noi che gestiamo il quartiere è il quartiere che gestisce il comitato sabato 10 domenica 11 ottobre prossimi torna anche a Gela la manifestazione organizzata dall'associazione italiana Sclerosi Multipla si tratta della Mela di Aism lo scopo è quello di informare sensibilizzare e sostenere la ricerca scientifica in città i volontari saranno presenti in piazza Umberto I nei pressi delle chiese San Francesco Sant'Antonio Santa Lucia Regina Pacis Supermercato Deco di Via La Paz Via Le Corte Maggiore ed Euromarket di Via Palazzi incrementare la raccolta differenziata che attualmente si attesta intorno al 10% puntando a raggiungere entro il 31 dicembre il 36% così come è stato imposto dalla regione lo scorso fine luglio e ridurre la tassa a carico dei cittadini una sfida che l'amministrazione cercherà di vincere grazie a un piano pilota in attesa che l'Urega espleti il bando per il piano Aro piano presentato a Palazzo del Carmine che entrerà in vigore con l'emanazione di un'ordinanza sindacale che sarà firmata e resa operativa rientro del primo cittadino da Rochester per scongiurare così l'imposizione da gennaio dell'ecotassa con un ulteriore aggravio al cittadino io credo che noi questo obiettivo lo raggiungeremo e anche se è alto come ho avuto modo di dire prima se vogliamo possiamo arrivarci a quel fatidico 36% da raggiungere entro dicembre perché riuscire in questo significa beneficiare di una riduzione della Tari della tassa sui rifiuti già nel 2016 quindi se la comunità accetta la sfida sarà un beneficio per tutti obbligo per le utenze non domestiche della raccolta differenziata grazie a un accordo con Caltambiente che dedicherà un apposito servizio ripresa del porta a porta a Santa Barbara con uno sgravio del 30% rispetto alla Tari a prescindere dal peso conferito per tutti coloro che si autodichiarano queste alcune azioni che saranno realizzate nella prima fase che vedrà anche il coinvolgimento di alcune realtà quali gli opifici della pace progetto portato avanti dalla chiesa di San Luca dalla raccolta una a uno nelle scuole e l'istituzione nell'asilo ex omni di un ecopunto dove si realizzerà l'ecobaratto si sta pensando anche all'installazione di un'isola ecologica in città che grazie all'utilizzo della tessera sanitaria prevederà una premialità per tipo di rifiuto conferito e quantità abbiamo quintuplicato i convenzi per l'utente quindi per 5 volte quindi ora dovrebbe essere più conveniente assai più conveniente portare il rifiuto incontrato a Cammarella previa chiaramente iscrizione i rifiuti di spazzamento vengono inquadrati come raccolta differenziata perché sono differenziabili stiamo facendo poi una serie di convenzioni almeno per ora ce n'è 3 in corso con delle associazioni private che aiuteranno per la differenziata e abbiamo in corso anche un avviso di bando per l'organico per poter piazzare l'organico perché l'organico è in gira il 35% quindi se noi riusciamo a piazzare l'organico già ci sarà un salto notevole donazione di sangue domani domenica e lunedì prossimo nei locali del centro di raccolta fisso di via degli appennini numero 5 a Gela a promuoverle la sezione locale dell'ADAS preseduta da Enzo Emanuello ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale bando di ricerca e selezione di tre operatori socioassistenziali due di sesso maschile e uno di sesso femminile lo ha indetto l'istituto comprensivo Gela e Butera diretto da Agata Gueli le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del prossimo 19 ottobre non farà fede il timbro postale per informazioni bisognerà rivolgersi al seguente numero di telefono 0 933 83 53 52 76 Stati generali della società civile di Gela alla decima edizione il 24 e il 25 ottobre presso il palazzo ex convitto Pignatelli le associazioni di volontariato incontreranno la città l'iniziativa rappresenta un importante momento di incontro e di formazione per aprire scenari innovativi di progettazione sociale partecipata i lavori inizieranno sabato 24 ottobre alle 9 per l'occasione sarà a Gela il fondatore dell'arsenale della pace Ernesto Olivero per un confronto con gli studenti e volontari della città e una riflessione sull'emergenza sociale derivante dai numerosi attentati incendiari di autovetture che si ripetono quasi ogni notte l'iniziativa è promossa dal coordinamento delle associazioni di volontariato di Gela dal Movi dalla Casa del Volontariato dal CESVO con il patrocino gratuito del Comune 6 personaggi in cerca d'amore prima assoluta oggi alle 21 al Teatro Eschilo di Gela saranno presenti Salvo La Rosa e Sandro Vergato una serata speciale dedicata all'associazione donatori midollo osseo diretta in città da Giacomo Giurato una parte dell'incasso sarà destinato all'acquisto di uno scanner venoso per il reparto di pediatria e trasfusionale dell'ospedale Vittorio Emanuele ad accogliere il pubblico la crew di accoglienza dell'istituto alberghiero Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio di Bartolo che ha accolto con entusiasmo l'invito di Admo Una festa per la vita è l'iniziativa promossa dal Comitato di Quartiere Cantina Sociale di Gela in collaborazione con il Comune la Parrocchia San Rocco e la Fida Sadas si terrà sabato 17 ottobre alle 21 nel piazzale adiacente al Campetto San Rocco previsti una serata danzante una mostra artigianale e la gara della più bella torta per informazioni e iscrizioni gratuite 346 3649 833 Settima edizione Green Run Corri nel Parco di Montelungo a Gela è prevista per venerdì 16 ottobre appuntamento alle 9 l'iniziativa è dell'associazione Green Sport Promotion diretta da Giuseppe Veletti si tratta di una corsa promozionale ludico-ricreativa di valorizzazione conoscenze e fruizione del parco Adesso parliamo di sport il Gela avanza in Coppa Italia battuta ieri la profa Vara il gol è giunto a pochi istanti dalla fine il tecnico Brucculeri sottolinea c'è tanto da lavorare sentiamo si è dovuto attendere l'ultimo giro di Longetta per realizzare il gol vittoria che vale l'accesso al turno successivo di Coppa Italia per il Gela la squadra biancazzurra l'ho trovato con Campanaro è giusto sottolineare che anche con un pareggio la formazione di casa avrebbe passato ugualmente il turno forte dell'1-0 conseguito in terra grigentina profa Vara battuta 1-0 però non è stata una partita dagli alti contenuti tecnici molti errori e tanti sbadigli tra gli spettatori presenti probabilmente i giocatori gelesi sono ancora sotto shock per la pesantissima sconfitta rimedetta in campionato nel derby con la San Cataldese sconfitta che è costata la panchina al tecnico Simone Pardo e ieri la partita ha segnato il ritorno di Totò Brucculeri pochi gli spunti degni di nota il tecnico dovrà lavorare molto sulla testa dei giocatori il gelo ha giocato in superiorità numerica per quasi tutto l'incontro a seguito dell'espulsione del portiere favorese Priolo rimediata all'ottavo cartellino rosso e rigore dai 11 metri però Biundo spiazza Taibi ma colpisce la traversa nella ripresa i biancazzurri ci provano su calcio di punizione e alla 44esimo è bravo l'estremo difensore favorese a deviare in angolo un'altra conclusione dei padroni di casa poi come dicevamo è Campanaro a siglare il gol vittoria ed ora testa al campionato domenica arriva il Camaratt io cercherò in tutti i modi di poter andare innanzitutto ordine in mezzo al campo ordine nel momento in cui si devono muovere tutta una serie di cose quando c'è da lavorare significa lavorare a 360 gradi pesano ancora i 4 gol per Sessangataldo dobbiamo svegliarci questo non è certamente l'approccio giusto la mentalità giusta per andare avanti dobbiamo darci una svegliata perché il campionato è molto più difficile di quando molti pensano e sinceramente dobbiamo cambiare rotta e più in fretta velocemente speriamo già da domenica cambiare un po' la mentalità e cercare di essere più aggressivi avere più personalità in gambo ci manca questo peccato perché eravamo partiti all'inizio del campionato col piede giusto ora non so speriamo che il nostro mister ci possa capire e cercare di essere lui da traino per questa squadra comunque ci tengo anche a sottolineare che questa è una vittoria anche per il nostro vecchio mister perché giustamente il mister Bruccoletti è arrivato 24 ore fa quindi questa vittoria è anche frutto del suo lavoro il play gelese Sergio Abela già alla studentesca Alicate al basket Gela si trasferisce al nord a tesserarlo è stata infatti la quinto basket Vicenza che milita in promozione Abela proda alla corte del tecnico Maurizio Mamic del direttore sportivo Gianfranco Mora il club Veneto è una società satellite per il settore giovanile della polisportiva basket Camisano Vicenza siamo all'informazione cinematografica è sangue del mio sangue il film in programmazione al cineteatro antidoto di Macchitella a Gela sono due gli orari di rotazione della pellicola 18 e 30 e 21 e 30 è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui a tutti voi arrivederci alle prossime edizioni a